ebbene a tutti ragazzi e benvenuti in questo video io sono mattia 3 2000 oggi sono qui in quest'altro video di minecraft se ne ricevo un po da tanto volevo rifare insomma io volevo fare un modo di sprovvivenza difficoltà normale non difficile perché sennò è normale ma poi avvio cassa bonus questo seme che uno ha detto che dovrebbe essere strano che dovrebbe essere un villaggio infatti qua del deserto tipo alla terza notte dovrebbe esserci o qualcosa di strano però non ho detto altro diamo se coordinate e basta possiamo iniziare prima di iniziare faccio così esco un po qua e visto che facciamo così è buio qui in camera mia per chiesa non così grande va bene così va bene ci avrò un po più dritto così metto sopra il letto perché non ha una scrivania bene dai al minimo solamente sto qua però non è che è così tanto sopra il mio letto vabbè vabbè ma più piccola forse no ma va bene possiamo iniziare allora dobbiamo aspettare quindi sono dove una parte perché fa caldo qua e svizzera fa questo svizzera per adesso poi vediamo se sto ancora qua fa ancora un po caldo tipo l'inverno arriva in tra sempre in poi quindi sopra qui se devo già adesso per esempio già quasi un po' di stare ancora e poi dovrei iniziare l'inverno poi sono tutti secchi poi io già pigiamo lungo di lana sono già preparato benissimo e quelli che aspettiamo appena attivano lì che aspettiamo sono da due minuti l'isano un po' aspetta un po' troppo ragazzi Ci vediamo proprio quando Mi trovo per terra Per terra Ragazzi Siamo arrivati adesso Non ho manco toccato Cosa c'è a sinistra? Bene C'è qualcosa di strano Apriamo una cesta qua Prima le torce Vediamo ci restacco Non è trappola Non vedo niente questa webcam Avrei paura di metterla in mezzo Perché sicuramente non vedrò ancora niente Però vediamo Ok Non c'entrano niente Tutto qua Il piccone in pietra Già siamo vantaggiati di tanto Vediamo anche cesta Non mi va di prendere il raccio Quindi spacco con il bastoncino Avrei già paura Io già andavo Avrei già andavo Avrei già andavo Avrei già andavo Comunque qua O da questa parte O da quell'altra Ci dovrebbe essere un villaggio Un villaggio Come dopo Avevo tutto all'inizio Ciò con i conigli Oppure là in fondo Un bastone Quindi mettiamo qua L'ascia Facciamo una posta di questo Chi sta con dentro Stiamo Shitting Sembra nessuno Sembra nessuno Ok Cominciare a scavare Sentire acqua Perfetto Mai successo questa cosa Ma mai Perché si è attivata Si è attivata L'impulso Da Rekson Che poi ha acceso TNT Con che cosa Non è successa Questa cosa A me Fa un po' Troppo buio Sento ragno Già Ma boh Questa è la prima Cosa più strana Che ho visto Già Adesso Penso un po' Dopo Che starà Dentro Sto villaggio E vediamo Poi Carbo Servirà Palletorce Ci si è deciso Sta pietra Su sasso Qua O c'ho Rani Ok Il tuo carbone Non c'è Nel più contesto A distrugge Non so Grazie Vabbè Nice Pasqua Grazie Bassa Grave Ok Guarda Manco Mi fanno Davanti Tanto Dai Torno No Di qua D'è qua D'è qua L'ho Mi donato Anzi No Prima Libertà Qualche mi dava stiglio Andò Dosa la fonte d'acqua quando sta è questa è buona grazia e basta Vabbè Che sai qua? Però io non voglio Ma c'è l'arco incantato Già subito così Ma non lo so Io non mi farò manco Ci riesco Adesso muoge Ciao Dio Ma basta Ha rotto Madonna Mezzo po' Poi se mi va Potrei fare pure una partita A brossarsi perché sono migliorato Adesso Ho ricevuto il nuovo brawler Oh ma c'è l'arco Potentissimo Non tanto però Credo che in quel tipo di minecraft In questo divo Non ci sanno I sottodigli Per esempio dei rumori Eccetera Perché? Perché? Perché era meglio? Ma poi non mi ha fatto niente Perché non mi ha fatto niente? Non mi ha fatto niente? E' spurcava Lo migliori di salire Se diamo da Qua Con i blocchi Questi Beh è molto più di qua Sì Se la faccio qua Cosa è un po' sta mano Che Si è abituato l'esperienza brutta esperienza per girare intorno intorno io in questo deserto e adesso è pure notte benissimo ma composta qui praticamente una mela la parola basta basta che l'ho trovata meglio per me vorrei rongole a molto gatti diamo notiamo il cerco verso lì la mia letto perché cucinare il cibo cucinare il zamone e basta questo da bruciare ma però danze poco ci vediamo domani dubbioso l'attore poi ci trovo sopra sta torre una cesta ah bene molto bene questo un buon no se questo è via ma c'è un po' come qua tre snera ok la volete inizia no arci e addio poi ci troppo so pura qui per me e se non c'è qua qua ah se non ce la metto qua no la metto qua se la metto qua forse va bene ma pure bene se non c'è tutto quanto alla perfezione vabbè ci siamo giocati vediamo la porta a lui perché sennò qua amore buongiorno perché non l'ho usa il letto lei pagato dentro il muro però non voglio spiegare ti chiamato Mirk e guarda buongiorno voglio vedere un po' che ci sta dentro queste case che ci sta dentro che ci sta dentro un terzo letto e poi cazzo e poi cazzo invece no invece no invece si sospetta tipo c'è un agno quanto mi sospetto no forse questa cosa interessante quest'altra parte questa roba niente forse questa qualcosa si può allevare non posso dargli un po no perché se no che cosa sbatti mani chi sta rompendo le porte macchina dove cazzo e due no prezzo la cazza che sapeva distruggere mi parte una spada dentro prendi auguro tanta famiglia quest'altra cosa è più lontana di tutte pensiamo anche perché non c'è niente se tu muori e non muori vabbè ma già per me spazzando però ok prima sto vado prima che bravo e complimenti non esceca fuori o no aspettate però c'è un problema oddio si è svegliato ma voi dite perché ho fatto del signor golem mi sembra che questo è un tizio un altro forno non lo ho qui cioè non c'è più il bordo sto vendo questa fornace sicuramente qualcosa ne asco ora è un po' il genius però come si vede non ci sta niente urca ma fate voi ancora vive nasce guardi perché non vi ma perché non mi muori tutto bene qua ma ancora lei basta tra la fronte ii camadonna eccolo il tuo segole eccolo corri vedete perché l'ho sbagliato eccolo sembra essere qui già l'ho seminato no urca quanto è incazzato quanto è incazzato da uno a mille solamente un miliardo questo secondo ancora sì ma sì purtroppo la canaida metto qua sopra anche se non si aveva visto il jazz però la metto la metto qua ce la faccio in tempo corre eh scusa poi se te la guardano pure ma oh venga sentite quante parti è tutto incazzato nero guarda ma si è così no mi sentono ci non vi immaginate io adesso ma 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 stocco ecco dove c'è il gol scumbari ci dimenticate che ho forse picchiato il villagerio che si è andato io ma ancora perché mi seguo ancora dovrebbe aver capito che corri via qua ma basta tu 1,2,3,4 4,5 vabbè non lo faccio mi riprendete la roba sto finita ecco ecco qua sono un villagerio che si incursano però adesso sono morto allora infatti se c'è ancora con me mi cazzo amaramente adesso e fino a seguirmi ok allora qua sono un zino tu sono mia anche voi ok qua dentro ma poi io dovrei io sono morto qua quindi la roba dovrebbe essere qua dentro mica fuori poi invece è sacro allora ok andiamo alla casa e ci fermiamo qua perchè entri minuti ma più che bene prima c'è questa vedo una che mi ricordo come è fatta andrò sta forse qua no mi sta un po' laggando il sangue perchè mi fermo qua mi fermo qua ancora qua oddio me lo posso ancora più più chiare perchè se no il golem mi fa fuori allora mi faccio mi fermo ma che no no andrò sono dormito qua e va bene può bastare così possiamo fare salvedesi disemeno muri marona un po' tanto oddio adesso che pura salvata a salvare ci mette più di chiare quindi facciamo così un punto basta vedete facciamo così ok possibile così sicuramente comunque se vi è piaciuto questo video mettete un like ed iscrivetevi al mio canale sia quello mio lo di cambra forse pure quello di che mi è piaciuto forse ve li metto sotto questa descrizione e e forse pure il mio nickname di di brustart così potete giocare pure con me pure con cambra non lo so comunque ciao a tutti ragazzi qua da under ciao a tutti ciao a tutti